Siamo qui alla premiere di The Batman, Caterina Balivo, quanto ti piacciono i supereroi? Mi piacciono tanto, soprattutto al cinema, faccio un po' più fatica a leggere i fantasy, però sono molto curiosa di vedere questo nuovo Batman e poi c'è una bellissima Catwoman, quindi insomma vi farò sapere. Il nuovo protagonista è Robert Pattinson, te? Sì, infatti ho anche letto le sue dichiarazioni che ha dovuto scavare un po' durante la sua adolescenza per ricreare il personaggio di Batman, è un Batman più psicologico, lotta contro il male e sono molto curiosa. E come sta andando questa nuova stagione del cantante mascherato? Ci siete mancati l'ultima settimana? Sì, delle telefonate scottanti con Valgioglio e tutto. Ma lo chiamo ogni giorno per dire ma sei tu, ma sei tu, dice basta, sei pazza, sei pazza. Ciao! E quindi mi ha molto... tutti i giorni lo sto chiamando, secondo me è lui, non lo so, e devo capire, devo capire. C'è chi ipotizza un tandem con Massimo Lopez? Cioè uno doppia l'altro oppure si doppia una vicenda? Potrebbe essere per te? Domani lo richiamo.